Gli aggettivi possessivi mio, tuo, suo, compagnia bella, sono utili, ma non sono necessariamente veri, così come i pronomi personali cui fanno riferimento, io, tu, lui, lei, ecc. Utili perché nell'uso quotidiano del linguaggio ci servono ad indicare una relazione tra un oggetto e il suo, peraltro, provvisorio possessore, la mia tuta da ginnastica, la sto indossando io, d'accordo, ma un giorno, se sarà ancora buona, la porterà mia sorella, casa mia, un'altra cosa il cui possesso pare decisamente più stabile rispetto ad un capo di vestiario, in realtà ce l'ho in eredità da chi mi ha preceduto e in prestito da chi verrà dopo di me. La mia scuola, ma non è letteralmente mia, più di quanto non sia sua o nostra o loro, e domani, quando finalmente ne sarò fuori, apparterrà ad altri studenti e ad altri insegnanti, nel senso che sarà da loro frequentata, da loro condotta, sempre provvisoriamente, a tempo determinato. Dopo questa generazione, poi, verranno i figli e i figli dei figli, al netto, Dio ce ne scampi, di scenari bellici, da incubo. In realtà, l'istituzione scuola, differenziata per ordini e gradi, non è di nessuno, nella misura in cui, per legge, può essere frequentata da chi che sia, cioè corrisponde ad un diritto di tutti. Ecco, coltivare un punto di vista realmente filosofico dovrebbe aiutarci a non cadere nelle trappole dell'uso quotidiano del linguaggio, che tende a reificare, cioè a dare sostanza stabile di realtà, scusate la parolaccia, rapporti giuridici tra soggetti, tra soggetti e oggetti, ma anche desideri, prospettive e quant'altro sia egocentricamente fondato. Questo, naturalmente, senza nulla togliere al valore pratico del linguaggio ordinario. Occorre, però, imparare a distinguere gli ambiti, a rendere flessibile il pensiero, sintonizzandolo su diversi piani di significato. Piani semantici, per così dire. Insomma, posso pure dire che lei è la mia ragazza. Va bene, ci capiamo senza problemi, ma attenzione a non credere che una persona possa veramente essere di qualcuno. Ecco, a non reificare il linguaggio significa questo. Nemmeno in una società fondata sullo schiavismo, come quella romano antica, al di là dei termini di legge, era a ben guardare legittimo e sensato pensare che una persona, soprattutto se considerata secondo la prospettiva della libertà interiore, potesse appartenere a chi che sia, almeno dal punto di vista filosofico. Sentite, per esempio, cosa dice Seneca a proposito della schiavitù. Ho appreso, con piacere, da persone provenienti da Siracusa, che tu tratti con familiarità i tuoi servi. Questo comportamento si confà alla tua saggezza e alla tua istruzione. sono schiavi? Sono schiavi? Sono uomini. Sono schiavi? No. Vivono nella tua stessa casa. Sono schiavi? No. Uomini amici? Uomini amici. Qui c'è un po' di emocrisia, in un certo senso. Comunque. Sono schiavi? No. Compagni di schiavitù, se pensi che la sorte ha uguale potere su noi e su loro. Il passo è tratto dalle lettere all'ucidio, 47, 1. E ancora, considera che costui, che tu chiami tuo schiavo, è nato dallo stesso seme, gode dello stesso cielo, respira, vive, muore come te. Tu puoi vederlo libero, come lui può vederti schiavo. Sempre dalle lettere all'ucidio, 47, 10. Ora, la schiavitù, almeno in linea di principio, è stata abolita nel mondo contemporaneo. Di fatto, sopravvive ancora nelle pieghe di diverse società, la nostra compresa. Basta farsi un giro nelle campagne della Capitanata, dove schiere di immigrati lavorano, per pochi euro all'ora sotto il soleone, per raccogliere i pomodori che finiscono sulle nostre tavole, senza diritti, spesso senza identità. Per loro, tra parentesi, l'allarme causato dal cosiddetto climate change non vale. Ad ogni modo, a considerare la questione dal punto di vista senechiano, ogni cosa degli uomini, ogni opinione, ha un mero valore prospettico. Peraltro, le peggiori gabbie in cui viviamo intrappolati, oltre a quelle socio-economiche, ben inteso, sono quelle della mente. Ed è di questo che ci stiamo occupando qui, tra l'altro. Consentitemi di ritornare, però, al punto scolastico cui ho accennato prima, e da quel mondo che io, come tutti, provengo e dal quale trago, col mio lavoro, il pane quotidiano. Se per proposito, o meglio a sproposito, di uso dei possessivi, ebbene, qualche preside o qualche insegnante pensa ed agisce come se la scuola fosse sua. Si sbaglia. E, purtroppo, il retropensiero che si esprime con il possessivo suo, retropensiero di cui magari non è del tutto consapevole, non è errore privo di conseguenze. Le illusioni, le auto-menzogne, fanno molto male, non solo a chi le subisce indirettamente, ma soprattutto a chi vi si aggrappa con le unghie e con i denti. Questo è uno dei tanti problemi del nostro sistema scolastico, non il principale, beninteso, ma pure oggi alquanto allarmante, soprattutto dopo la deriva privatistica dell'ultimo quarto di secolo, che ha dato vita ad una ridicola vulgata, cavalcata da tutti i governi, indipendentemente del loro colore, solo di facciata beninteso, che vorrebbe i diversi istituti, sulla carta articolazione della medesima istituzione, l'uno in concorrenza con l'altro. è un delirio quotidiano al quale assistiamo tutti i giorni ed è qualcosa che paghiamo noi direttamente, noi insegnanti e anche i cittadini, quelli che vengono definiti oggi pubblica utenza o clientela, insomma altri termini decisamente ridicoli. Comunque sia, cedere all'illusione del possessivo, dimenticandosi che esso non preesiste alla relazione, ma trova fondamento e ragion d'essere in essa, e solo in essa, produce scompenso, aggressività, malumore, disillusione, depressione. Ecco perché, come abbiamo già rilevato, dire di una cosa, o peggio, di una persona o di una istituzione, che è mia, che mi appartiene, può senz'altro essere utile per distrigarmi nella realtà di tutti i giorni, per fornire e ricevere informazioni pratiche, tipo scusa, hai visto per caso il mio libro? A che ora parte la mia corriera? Quando arriva il mio turno? eccetera eccetera. A condizione, però, vale la pena ribadirlo, che non si finisca con lo scivolare inconsapevolmente dal piano della mera utilità a quello della VERITÀ con la V maiuscola, scordandoci che a definire mia, tua, sua, nostra, eccetera, una determinata cosa è sempre la relazione, che è sempre transitoria, momentanea, contingente tra soggetti, oggetti, fatti o concetti. Marco Aurelio, nei suoi pensieri a se stesso, esprime questo medesimo concetto in maniera oceanica. Ricorri continuamente alla rappresentazione dell'intera eternità e dell'intera sostanza e del fatto che ogni singola parte è, di fronte alla sostanza, un granello di fico, di fronte al tempo un giro di trapano. A se stesso, 10-17. A parlare, beninteso, è un uomo di stato il cui potere si esercitava su un impero sterminato. Figuratevi che consistenza si possa realmente attribuire alle illusioni generate dal nostro minuscolo, insignificante io. Polvere di polvere. Eppure, di ciò che è vero, a ben guardare ci preoccupiamo assai poco. Le giornate spesso ci scivolano via, rotolano a valle e la consapevolezza del vero si dissolve come neve al sole. L'utilità finisce col prevalere sulla verità. Anzi, peggio, appiattendosi, si identifica con essa. Da qui il fraintendimento di fondo, che domina il nostro tempo. Vero è ciò che è utile. Utile è vero. Il punto, poi, sarebbe individuare il reale complemento di termine di tale utilità. Perché, mentre ciò che è vero lo è per tutti, a prescindere da qualsivoglia prospettiva e concentrata, l'utile, cari miei, si definisce sempre in relazione a qualcuno o alla realizzazione di qualcosa che conviene tanto o poco ad alcuni soggetti, ma non ad altri. Ma pochissimi soggetti in linea di massima. Se a questa considerazione aggiungiamo il fatto che, spesso e su questioni non di poco conto, credendo di agire per il nostro utile, siamo piuttosto agiti da forze politico-economiche, tecnologiche, tecnocratiche, che ci sovrastano, beh, tirate voi le somme. Utile a chi? A che pro? Ma in nome di quale principio? Queste sono le domande che bisognerebbe porsi. Si tratta di un classico qui pro quo. Da dominatori del linguaggio, liberi creatori di simboli, ci trasformiamo in schiavi del linguaggio. Ci lasciamo tiranneggiare dalla falsa potenza del luogo comune. Diventiamo consumatori di immagini, slogan, programmi televisivi, messaggi propagandistici incrociati. Bramiamo qualcosa o qualcuno che ci intrattenga. Alimentiamo, con la nostra domanda, la cosiddetta industria dell'intrattenimento. Allacremente produciamo e riproduciamo, in un certo senso, le nostre catene, le catene che ci intrappolano. Quando l'utile prevale sul vero, le prende il posto, allora creatività, criticità, affettività, ovvero tutto ciò che rende un essere umano libero e la vita degna di essere vissuta, finiscono con l'essere incelofanati, impacchettati, compressi in file zippati e imbanditi su mensi senza sapore e senza anima. Si isteriliscono, si contraggono, si snaturano, diventano mere etichette su scatole di pillole. La nostra è la civiltà della pillola, in un certo senso, della quantità incensata e confusa al posto della qualità. Crediamo di essere liberi, ma per lo più della libertà non sappiamo nulla, non sappiamo che farci, né di quella interiore, che ci riesce sempre più difficile coltivare, né, oramai, di quelle presunte libertà civili, politiche, socio-economiche, sulle quali si fonderebbe, in epoca di conclamata post-democrazia il condizionale ed obbligo, la società contemporanea. L'utile, poi, non può fare a meno della quantità, ma il vero si basa piuttosto sulla qualità. Il particolare si distingue in base ad una forma, ad un'immagine, ad un quid non meglio definibile, non calcolabile, non riproducibile, se non attraverso l'arte, sfuggente ad ogni analisi scientifica o tecnoscientifica. E la realtà in cui ci muoviamo è fatta, in ultima istanza, di particolari, di cose concrete. Ogni essere umano è particolare. La sua vera essenza non è riducibile, è inquantificabile, a parte l'analisi del sangue o la pagella di fine quadrimestre. È colore, suono, odore, impulso, emozione, scintilla di spirito, se mi passate la metafora. E le idee, invece, di chi sono? Se ho avuto un'idea, mi diceva una ragazza qualche tempo fa, ebbene, quell'idea allora è mia, solo mia. Come potrebbe tale idea appartenere ad un'altra persona, se sono stato io a concepirla? Con questa domanda la ragazza mi chiamava a rendere ragione di quanto avevo affermato in classe a proposito del cosiddetto dialogo socratico, una pratica di cui abbiamo già parlato. Ovvero, che le idee, in realtà, non ci appartengono, che esse si originano attraverso il dialogo, e si collocano in una dimensione ulteriore, quella interpersonale-sovrapersonale, che, in certo senso, presiste e sussiste alle stesse persone che sono coinvolte nell'attività dialogica. Ecco perché si dice che le idee sono eterne, almeno fino a quando ci sarà qualcuno in grado di concepirle, sempre che non le si voglia collocare in qualche mondo iperuraneo di platonica memoria. L'esempio che mi veniva porto a sostegno della tesi del possesso personalizzato di questa o quella idea riguardava il campo della tecnica, ed in particolare quello dei cosiddetti brevetti. Il primo uomo ad inventare e costruire un aeroplano, il progettista brasiliano Alberto Santos di fatto deve essere considerato il legittimo copywriter dell'idea di aeroplano. E beh, questo è senz'altro corretto nell'ambito della giurisprudenza e della tecnica, ma lo stesso non si può affermare nell'ambito delle idee in sé. Di personale al massimo si può dire che vi è, o vi sia stato, un determinato modo di connettere visioni, teorie, conoscenze scientifiche, tecniche che comunque non appartenevano a questo o a quell'uomo, ma al limite all'umanità tutta. O meglio, le idee erano lì, in una dimensione collettiva, interpersonale, dialogica. Affermare il contrario sarebbe come dire che la visione che il mio occhio sta riflettendo, afferrando in questo preciso momento lo schermo del computer che mi biancheggia dinanzi, appartenga in qualche maniera al mio stesso occhio, o alla mia mente, sia da essa generato, e non abbia alcuna consistenza al di fuori della stessa. O, detto altrimenti, uno staff di ingegneri aeronautici, o un ingegnere in particolare, può forse inventare un nuovo sistema di navigazione aerea, ma non può certo reclamare l'esclusiva sull'idea stessa di volo. Un uccello non sa di volare, ma vola. Non possiede alcun brevetto, ma si libra, libero e spensierato degli spazi celesti che ci sovrastano. Per lui il volare è essere, un essere che non ha nulla a che vedere con l'avere, che non si possiede, si vive e basta. Un altro esempio. Il grande giocatore di scacchi non è tale per aver inventato le regole del gioco, né per essere riuscito a concepire e a calcolare tutte le mosse possibili , ma per aver contemplato, nel corso di una serie di partite, particolari combinazioni di mosse, per aver trovato collegamenti e strategie sino a quel momento inedite. E così il compositore talentuoso, il genio della musica, non ha inventato le note, il ritmo, l'armonia, ma ha generato, attraverso la pratica e l'esperienza, quella determinata sinfonia, quella sublime sequenza di suoni e pause modulati sulla carta del silenzio. Per questo il vero pensare è sempre un essere in dialogo con, un rapportarsi a, o tra, questo poi il significato di dialogos, alle visioni che abbiamo imparato ad apprendere insieme agli altri, a volte a scuola, nonostante la scuola, che abbiamo concepito relazionandoci ai nostri genitori, ai nostri avi, ai libri che abbiamo letto e meditato, ai film cui abbiamo assistito, alle esperienze che abbiamo vissuto in prima persona, oppure più semplicemente a questa persona qui, con la quale effettivamente stavamo dialogando qualche ora fa. Dialogare, in senso filosofico, non significa dunque scambiarsi informazioni o punti di vista o mere opinioni di cui eravamo possessori, quanto piuttosto dare vita a creare nuove visioni, giungere a partorire frammenti di verità, sporgendoci nel tempo verso qualcosa che ci sovrasta, oltre il tempo. Condizioni essenziali del dialogo sono la disponibilità a mettersi in gioco in maniera veritiera, il saper fare di volta in volta tabula rasa rispetto a preconcetti ed immagini di risulta, opinioni ed altra spazzatura interiore mal digerita. Se si vuole dialogare per davvero, bisogna prestarsi a fare le grandi pulizie dell'anima, a smaltare la nostra coscienza e il nostro sguardo, affinché possa riflettere le idee senza distorcerle. Un'operazione che si fa con gli specchi. La metafora è plotiniana, per capirci. Occorre ripulire, smaltare lo specchio della nostra anima per poter riflettere il vero, cioè le idee. È come se, in senso metaforico, per poter assistere ad un film dovessimo preliminarmente ripulire i nostri occhiali da ogni incrostazione di polvere o di sudore. La mente del dialogante è sempre una mente di principiante. È un saper cominciare di nuovo ad ogni giro di cielo. È un desiderare ardentemente ciò che non si possiede. È un essere che non può risolversi in alcuna forma di avere. Chi pensa di avere, di avere qualcosa, non ha di fatto niente. Chi è sicuro di un'opinione la tiene presuntosamente in gran conto, senza metterla in gioco per davvero, non può dirsi libero. Pensi prigioniero, in latino cattivo, captivus. Chi dibatte, partendo da un assunto che vuol dimostrare vero a tutti i costi, per segreto, spesso lui stesso torna conto, non sta dialogando, non procede lungo il cammino della verità. Spesso mente senza sapere di mentire. La via del dialogo, quella che conduce alla contemplazione delle vere idee, dunque, non è la stricata di io, di mio, tuo, suo, eccetera eccetera. È un essere in dialogo con, un mettersi in relazione con. Le singole opinioni non si possiedono, non rimangono. Sono come passi lungo la via. Sono il camminare da loro consistenza. Un prendere è un lasciare. Nel salutarvi, a proposito di lasciare, vi lascio per un minuto in compagnia di Platone, che nel Teeteto, 187 BC, ha espresso magnificamente questo concetto di derivazione della verità. Socratica. Teeteto. Direi che conoscenza è qualunque opinione non è possibile, O Socrate, perché ci sono anche opinioni false. Direi che conoscenza è l'opinione vera, e sia questa la mia risposta. Se poi, procedendo nel ragionamento, quel che ci pare ora non ci parrà più, proveremo a dire anche qualcos'altro. Socrate. Bravo Teeteto. Così bisogna parlare, con animo pronto, e non come prima che a rispondere esitavi. E se facciamo così delle due luna, o troveremo quel che andiamo cercando, insieme, o almeno non crederemo di sapere quel che non sappiamo affatto. Ne sarà questo, certo, un guadagno disprezzabile. Un caro saluto a tutti e alla prossima lezione. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.